Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ATV, canale 12, che in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it. In questo momento inquadrato, edizione che va in onda anche live sulla pagina Facebook e TV Marche, così come sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet. In apertura di questa edizione, prima dei titoli che trovate anche sul nostro sito, anticipiamo per chi voto stasera i candidati del Fermano, Maceratese e Ascolano in prima serata su ETV, ma vogliamo aprire con una bellissima notizia di sport, di talento, di passione. Ginnastica Fabriano, Sofia e Milena ci avete regalato un sogno, doppio oro per la formica atomica Raffaeli, bronzo per la Baldassarri, città orgogliosa di queste due straordinarie ragazze. È una città in festa, Fabriano davvero si sveglia, oggi capitale della ginnastica ritmica, con le medaglie delle due atlete della società di ginnastica cittadina. Esulta Fabriano, giornata storica e indimenticabile. Mai, ricorda il comune, un individualista italiana aveva vinto un oro mondiale. Sofia Raffaeli ne vince addirittura due, prima al cerchio, poi si ripete alla palla. Bravissima anche Milena Baldassarri che alla palla conquista la medaglia di bronzo, tecnica, espressività, eleganza. Le ragazze ci hanno regalato e hanno regalato a tutte le marchigiane e i marchigiani una magia. Cambiamo argomento, veniamo ai fatti di cronaca, il grave incidente di ieri alla Fincantieri. Abbiamo un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'operaio, rimasto coinvolto, come potete leggere dal nostro sito, un grave incidente sul lavoro. Ieri gli operai hanno scioperato per testimoniare preoccupazione, oltre che solidarietà nei confronti dell'uomo. Condizioni stabili ma restano gravi. Questi gli ultimi aggiornamenti in condizioni stabili ma gravi. L'operaio 51enne di Polverigi travolto ieri da una lastra d'acciaio. Il servizio che riepiloga. Quanto è accaduto? Stavano lavorando alla realizzazione di un pannello unendo due pesanti lastre, quando una delle due si è staccata, piombando con i suoi 500 kg di peso addosso a uno dei due carpentieri. Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina al porto di Ancona, all'interno dell'area Fincantieri. Coinvolto un uomo di 51 anni di Polverigi, dipendente e diretto di Fincantieri. Illeso ma sotto shock l'altro operaio che si trovava accanto a lui. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina all'interno di questo capannone dove si lavora all'assemblaggio delle navi. Gravissime purtroppo le condizioni del 51enne. La pesante lastra nel cadergli addosso lo ha investito dal collo o ai piedi, procurandogli un politrauma agli arti, al bacino e al torace, con severe emorragie interne. Intubato e portato all'ospedale di Torrette in codice rosso, l'uomo è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. Stiamo tutti aspettando con ansia notizie dall'ospedale. Sappiamo che è stato sedato, che sta in sala a rianimazione, ma che le sue condizioni sono molto gravi. FIM, FIOM, WILM e il coordinamento sindacale Unitalio di Fincantieri hanno immediatamente proclamato per la giornata di mercoledì due turni di sciopero dalle 10 alle 22 e altre due ore di sciopero a fine di ciascun turno per la giornata di giovedì. Sulle cause di questo gravissimo infortunio sul lavoro, indaga la magistratura, riferiscono i sindacati. Certo è che si trattava di due carpentieri esperti e il 51enne ferito lavorava da oltre 20 anni per Fincantieri. Quello che non è più accettabile è che dentro i posti di lavoro dobbiamo ogni giorno subire un infortunio e molte volte grave, molte volte con la perdita della vita. Quindi bisogna riflettere su questa condizione del lavoro, dei posti di lavoro, mettere non in prima linea sempre il profitto e la produttività, ma mettere davanti a tutto la sicurezza sul posto del lavoro. Quindi bisogna iniziare a fare formazione, bisogna che tutti parlano la stessa lingua, aziende, lavoratori per quanto riguarda la sicurezza, perché non è più accettabile questa situazione. Cambiamo ancora argomento, ieri il primo giorno di scuola nelle Marche la campanella è suonata tra l'emozione dei bambini e anche dei genitori. Gli ultimi metri mano nella mano, una sistemata allo zaino e la campanella che suona, i più piccoli accompagnati da genitori e nonni, i più grandi in autonomia. È il primo giorno di scuola nelle Marche che ha visto rientrare in aula quasi 200.000 studenti. Nella regione sono 10.000 le classi nelle 233 istituzioni scolastiche statali. Un anno, quello che terminerà il 10 giugno, per la prima volta senza restrizioni dopo l'inizio dalla pandemia. Niente mascherine e dad, i banchi di nuovo vicini. Ad essere emozionati non sono solo bambini e ragazzi, ma anche chi li accompagna fino alla porta dell'aula. Lui comunque era emozionato, non vedeva l'ora. E i genitori sono emozionati? Noi sì, sì, comunque sì, perché qua stanno con i bambini, sai, si divertono. Si torna a scuola è un'emozione per i bambini, ma anche per i genitori? Sì, parecchio. Poi io ho una bimba di tre anni che quindi inizia oggi, quindi sì, parecchio emozionante. Accompagnato suo nipote a scuola? Esattamente, nonostante la sesta nipote, però ogni volta è un'emozione nuova. Non ci sono restrizioni? Questo sarà una bella sorpresa per i bambini? Direi proprio di sì, era ora. Questi soprattutto di tre anni che sono nati appunto in un periodo molto critico, è molto importante poter riniziare ad avere rapporti con gli altri bambini e vivere una vita normale. Tante emozioni e una felicità anche per i miei bambini che non rimangono a casa. Cambiamo decisamente argomento la pagina politica. Siamo in campagna elettorale. Come anticipato questa sera su ETV, i candidati del Fermano, del Maceratese e dell'Ascolano saranno ospiti della nostra emittente. Li conosceremo così insieme quelli che potrebbero diventare i parlamentari marchigiani. Appuntamento questa sera alle ore 21 sul canale 12 di ETV. Intanto ieri letta ad Ancona. Sono molto contento di essere qui in questo momento per questa campagna elettorale. La nostra manifestazione è tutti insieme qui ad Ancona per dare un messaggio molto forte, di fiducia, di speranza, per dire che noi crediamo nell'Italia che ha a disposizione i fondi del PNRR. Li deve usare tutti, fondi europei straordinariamente importanti per il futuro delle infrastrutture che sono fondamentali nel nostro Paese. Fondamentali tutte le scelte che si devono fare sul tema del lavoro. Le piccole imprese marchigiane hanno bisogno di questa riduzione delle tasse sul lavoro, che è la principale proposta che noi mettiamo in campo per le imprese. Meno tasse sul lavoro vuol dire aiutare i lavoratori ad avere un salario più alto, aiutare anche a combattere il lavoro nero, aiutare le imprese a stabilizzare i loro rapporti di lavoro. Per noi questo è accanto all'altro grande tema di cui parlerò oggi, è il tema della difesa della sanità pubblica. In un momento nel quale noi veniamo da due anni di pandemia che hanno duramente messo alla prova il nostro sistema sanitario, oggi abbiamo presentato insieme al Ministro Speranza il nostro progetto sulla sanità, a partire dal fatto che la necessità di fare un investimento sulla sanità che superi lo storico tetto alla spesa sanitaria che fu messo nel 2004 e che invece va oggi eliminato per fare un investimento sulla sanità pubblica, sui medici di famiglia, sulla sanità di famiglia. Altra visita, sempre ieri nel capoluogo regionale, Gianluigi Paragone di Italexit. Siamo assolutamente contrari all'obbligatorietà vaccinali, contrari ai Green Pass, contrari a lockdown, soprattutto anche quest'ultimo che stanno predisponendo che è in tema di energia. L'ETA si misurerà con le commissioni di inchiesta che proponiamo, una sul Covid e una sui vaccini, così finalmente ci confrontiamo anche sulle reazioni avverse da vaccino di cui nessuno parla e che ovviamente è un tema che il PD esorcizza. Senta, invece per quanto riguarda il PNRR e i fondi europei sarà di sicuro un impegno del prossimo governo. Come vi ponete? Beh, ma la Meloni, se questi sono i dati, la Meloni continuerà con l'agenda Draghi, con il piano Colau, con la quarta vaccinazione, con lockdown, esattamente come previsto a Cernobbio e all'Aspen Institute. Lei è emblema di questa piega che prende l'Italia da tempo, quindi si è uniformata al draghismo. Ultima notizia sullo sport, Ancona che vince in casa contro il Fiorenzuola. Sotto gli occhi di Vincenzo Guirini e Massimo Gadda, l'Ancona riscatta il brutto pareggio di Ponte d'Era e supera 2-0 il Fiorenzuola conquistando la prima vittoria in campionato. Partono fortissimo i Dorici. Al decimo, Battaiola è prodigioso sulla scivolata di Moretti, pescato in aria da Paolucci. Una minuto dopo, Gianni si accentra dalla destra e prova al sinistro, troppo debole. Al quattordicesimo, gol dei padroni di casa. Paolucci raccoglie una respinta della difesa e dal cuore dell'area supera Battaiola col sinistro. L'Ancona è scatenata, al sedicesimo Moretti riceve in aria e si gira, Battaiola blocca a terra. Al diciottesimo, destro a giro di Di Massimo dal limite, respinto in tuffo da Battaiola. Al ventunesimo, altro miracolo all'incrocio dei pali di Battaiola, sul sinistro dai 25 metri di Moretti. Al ventottesimo arriva il raddoppio, Martina scappa sulla sinistra, salta troppo facilmente su, si e batte Battaiola di destro da 10 metri. Al trentottesimo, altro superintervento del portiere Rosso Nero di Massimo, appoggia in mezzo per Moretti, tiro a botta sicura, Battaiola respinge. Al trentanovesimo, occasionissima per Gianni, ancora Morello crossa dalla sinistra, palla che arriva sul secondo palo a Gianni, che di destro mette fuori da pochi metri. Nella ripresa Moretti raccoglie al limite una rispinta della difesa ospite e di destro centra in pieno il palo. Al dodicesimo, Mondonico non arriva per un soffio sul secondo palo a raccogliere una sponda di un compagno. Al ventiseiesimo, ancora Ancona pericolosa su calcio d'angolo con l'inzuccata di Spagnoli, che esce di poco sul secondo palo. Nell'ultimo quarto d'ora l'Ancona controlla senza particolari patemi e dopo quattro minuti di recupero la gara finisce. Con questo servizio si chiude questa edizione marchigiana di ATG. Vi ricordo in chiusura questa sera alle ore 21 l'appuntamento con i candidati alle prossime elezioni per il Fermano, il Maceratese e l'Ascolano. Conosciamo insieme i parlamentari marchigiani a partire dalle ore 21 sul canale 12 di ETV. È tutto, grazie, buon proseguimento. Vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa tutti i giorni dalle 6.45 alle 9.30.